Ultimamente, chi non ci vuole rinascere, siamo stati lì in ultimo un po' più impegnati e live, perché stiamo facendo un album nuovo. Questa sera mi è deciso per la prima volta insumare qualche pezzo del nuovo album, un po' di sorrini anche prima. E questo è il primo pezzo che devo farvi sentire, è sentitola di Edna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.